Sta arrivando. Meteo Italia, previsioni shock per i prossimi giorni su tutto il paese e il maltempo che in queste ore sta imperversando sull'Italia non è destinato a durare, secondo le ultime proiezioni meteo infatti ci aspetta un'insolita novembrata. Nelle prossime ore intanto massa d'aria polare marittima, direttamente dal nord atlantico, entrerà nel Mediterraneo attraverso la cosiddetta porta del Rodano, cioè dalla Francia. L'aria fredda impatterà sulle alte montagne della Corsica, innescando venti di liveccio umidi verso il Golfo Ligure, una complessa interazione che vedrà proprio in Liguria un sensibile contrasto tra la massa d'aria fredda e la più tiepida acqua del mare. In sintesi tale processo causerà la formazione di un'area di bassa pressione in prossimità della città di Genova, detta appunto, Genoa Lore. Dalla prossima settimana però.